La situazione di emergenza sanitaria e l'incidenza della pandemia nella vita delle scuole assieme a molti disagi e molti aspetti assolutamente critici ha però introdotto un elemento di assoluta novità ed è un modo nuovo di cercarsi, di guardarsi, di aiutarsi tra scuola e famiglie, tra scuola e genitori. Insomma una collaborazione che via via si è fatta più solida più matura, più consapevole tra i due soggetti mirata evidentemente al sostegno dei ragazzi, dei propri figli dei propri studenti, all'aiutarli nello svolgimento dei compiti a coinvolgerli positivamente anche nell'attività di formazione a distanza e non ultimo anche per aiutarli negli aspetti psicologici e affettivi evidentemente messi alla prova dall'esperienza della didattica a distanza e dai disagi vissuti anche nelle proprie famiglie a seguito dell'emergenza sanitaria. Insomma un aspetto di novità che ci interessa mettere a fuoco e lo facciamo insieme alla professoressa Filomena Zamboli che è dirigente scolastica ed è membro della Direzione Nazionale dell'Associazione Disal, la quale ha scritto un interessantissimo articolo in proposito sulla rivista Dirigere Scuole edita da Tecnodit, una rivista di cultura professionale per dirigenti scolastici e figure di staff. Dunque professoressa Zamboli questo tema del rapporto tra scuola-famiglia è un tema antico negli anni settanta, lo ricordiamo furono addirittura istituiti gli organi collegiali per favorire una partecipazione delle famiglie alla vita della scuola una partecipazione attiva nei passaggi dei decenni questa partecipazione si è affievolita con una partecipazione risicata anche numericamente di genitori negli organi collegiali una certa sorta di disinteresse che però fa il contrattare in queste settimane con invece una nuova corresponsabilità una co-costruzione di momenti di confronto e di aiuto reciproco cosa va a dire la sua esperienza rispetto a questo tema? Sì, salve a tutti e grazie professor Delfino di questo invito della possibilità di approfondire questa dinamica di relazione che il patto educativo rappresenta tra scuola e famiglia l'esperienza della scuola del covid ci ha riproposto in maniera inedita rinnovata la necessità di questo patto educativo non come la scrittura di un documento formale tra due soggetti, i loro diritti, i loro doveri, le loro responsabilità ma come strumento di una dinamica di condivisione e di coraggio osmotico tra chi non può e non vuole dimenticare i volti dei ragazzi dietro i tecnicismi della didattica digitale integrata o appiattirsi nella diatriba della prevalenza del diritto alla salute sul diritto allo studio si parla da tanto, troppo tempo di una riforma degli organi collegiali di un rinnovamento di quella stagione che portò appunto il passaggio dalla semplice partecipazione quasi passiva ad una corresponsabilità vissuta tra i soggetti che sono deputati alla responsabilità del percorso di crescita dei nostri studenti e la scuola della pandemia ha riportato in auge questa dinamica della responsabilità secondo due fattori innanzitutto perché nella scuola al tempo della pandemia abbiamo sperimentato una rinnovata dimensione dell'autonomia che ha riproposto la scuola come impresa sociale di servizio per il territorio, per la comunità tutta e poi anche e soprattutto perché ha rideterminato la valenza pedagogica della responsabilità tra scuola e famiglia è noto che la famiglia sia assolutamente un fattore proattivo dello sviluppo della personalità e della formazione dei nostri ragazzi specialmente di quelli più fragili, di quelli più delicati, abbandonati e d'altra parte proprio a motivo della trasformazione generalizzata della struttura familiare la scuola nel tempo ha finito per assumere delle responsabilità che prima erano di pertinenza esclusiva della famiglia e allora oggi dalla scuola ci si attende l'apprendimento di competenze per la vita ed è questo il motivo per il quale questa dinamica di patto, di legame, di responsabilità condivisa riemerge con assoluta evidenza e chiede, postula, grida, oserei dire un dialogo che non si può più rimandare Ecco, una seconda domanda per lei professoressa Zamboli ed è questa è chiaro che un rapporto tra figure adulte come sono i genitori, i docenti, i presidi inevitabilmente implica una capacità di dialogo tra adulti su temi educativi e formativi nella sua esperienza e anche per la sua ricerca e si può ancora dire che per i ragazzi questo dialogo tra adulti si è percepito come un fattore utile, positivo per la propria crescita per l'incremento della propria consapevolezza e della propria crescita umana e culturale Nello studio condotto mi ha particolarmente interessato una ricerca dal titolo Opinion Leader Future promosso dall'Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo dell'Università Cattolica e il gruppo Credem una ricerca dal titolo significativo Mi fido di te sulla generazione Z italiana condotto con l'obiettivo di comprendere come questa generazione la generazione dei nostri ragazzi scelga i propri leader individuandone la tipologia per capire quali siano le aspettative dei ragazzi questa ricerca ripeto mi fido di te ha fatto emergere dei dati interessanti sulle figure di riferimento dei nostri ragazzi tra i 10 e i 25 anni queste figure di riferimento sono gli esperti di settore i genitori gli amici e gli influencer un dato interessante proprio significativo oserei dire è che gli influencer di professione sono citati come punto di riferimento dal 17% del campione con un ampio scarto rispetto agli esperti gli amici e specialmente i genitori insomma questa generazione di studenti nati durante la crisi economica del 2008 e del 2009 e che oggi sono studenti delle nostre scuole al tempo della pandemia hanno manifestato più degli altri un attaccamento di tipo proattivo nei confronti della famiglia di origine percepita da loro come un porto sicuro rispetto alle incertezze della società non soltanto perché hanno vissuto con loro il lockdown e adesso in una forma di relazione più diretta potendo relazionarsi con gli amici soltanto attraverso gli strumenti mediali con poca socialità insomma sorprendentemente emerge che lo sviluppo della personalità dei nostri ragazzi della generazione Z i nostri studenti necessita come da loro stesso richiesto di una rinnovata capacità e interazione collaborativa tra gli adulti responsabili del loro sviluppo di crescita del loro percorso di vita e questo ci richiama ancora di più alla necessità di una consapevolezza del fatto che ci si debba mettere all'opera ci si debba sporcare le mani per poter comprendere le loro esigenze e coinvolgersi secondo una prospettiva di fiducia mi fido di te vuol dire che attendono dagli adulti dai genitori dai docenti dai presidi delle loro scuole attendono da chi si fida da coloro di cui si fidano di certezze e dialogo un ultimo quesito in questo dialogo tra adulti di riferimento cioè dirigenti scolastici docenti genitori quali sono gli aspetti che maggiormente deve curare un dirigente scolastico un gruppo di docenti che tengono alla propria scuola affinché questo rapporto di corresponsabilità sia significativo maturi e sia efficace per la formazione dei ragazzi e degli studenti sì mi piace molto il termine che lei ha utilizzato della cura dell'aver cura nella relazione significativa tra scuola e famiglia l'esperienza ci ha dimostrato che occorre mettersi intorno al tavolo di un paradigma condiviso che riconosca la significatività della presenza della famiglia nel mondo della scuola e che la famiglia cominci a fidarsi non semplicemente per apprendere delle notizie di carattere tecnico sull'andamento didattico e disciplinare dei propri figli all'interno della scuola ma voglia assumere la consapevolezza della vita che i propri figli esplicano nel contesto scolastico e quindi fare un salto in avanti da una dimensione di semplice analisi su chi sono e come si rapportano come studiano i figli o gli studenti per focalizzare meglio la relazione il che vuol dire spendere molte energie per creare una costruttiva relazionalità tra genitori e insegnanti i dirigenti gli insegnanti stessi i genitori debbono assumersi la fatica debbono impegnarsi nel rapporto faticoso tra adulti per poter accompagnare nella prospettiva della fiducia i loro studenti e da questo punto di vista occorre innanzitutto fare esercizio di ascolto in tal senso lo abbiamo visto nell'esperienza di questo anno particolare le piattaforme per la didattica a distanza gli stessi registri elettronici possono trasformarsi da semplici strumenti di utilità in vere e proprie risorse comunicative io ho visto accadere nell'ambito della mia scuola ma nel racconto dell'esperienza di tanti colleghi di tanti docenti che l'ora di ricevimento si è trasformata in un'ora di dialogo di condivisione anche di confidenza reciproca e quindi ha costituito un'occasione di alleanza per comprendere disagi e aspettative dei nostri ragazzi da questo punto di vista mi ha colpito molto una cosa che scriveva massimo recalcati e che ha intitolato no alla generazione covid in essa ha affermato che se i nostri ragazzi non hanno potuto beneficiare nel tempo della didattica a distanza di una relazione in presenza questo non vuol dire che siamo di fronte all'irreparabile che hanno perso un'occasione mai più recuperabile che gli adulti si devono alleare contro il rischio della vittimizzazione perché la vittimizzazione è un gesto etico ed educativo terribile si tratta in realtà afferma ancora dei calcati di una lezione nella lezione che dobbiamo aiutare i nostri figli a fare propria e qual è questa lezione quella che lui dice possiamo fare nostra coraggio ragazzi siete sempre in tempo anche se siete in ritardo e in fondo nella vita è sempre così per tutti siamo ancora in tempo anche se siamo in ritardo che cosa vuol dire questo che si tratta di impegnarsi in una sfida di innovazione relazionale nella quale la prospettiva è non solo un apprendimento di maggiore spessore per i nostri studenti o una socializzazione che richiede momenti di approfondimento e di ulteriore opportunità ma dobbiamo comprendere che nel dialogo costruttivo prima tra adulti condiviso leale franco possiamo mettere le basi perché l'impresa coraggiosa di questo anno che la scuola ha compiuto di non lasciare soli i nostri ragazzi nei loro percorsi di crescita e di vita possa avere dei semi di rinnovamento che non ci possiamo permettere di sprecare di Grazie a tutti.